Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Matos e oggi sono tornato finalmente per portarvi il secondo episodio di Gift Squad Builder Una serie molto bella nella quale vi posto sotto forma di contest la squadra che vi porto Se arriviamo al numero di like che vi dico Per questo video vi chiedo 40 like Perché veramente regà ve ne avevo chiesti 30 nel primo episodio e ci siamo arrivati Quasi perché siamo a 28 Quindi se arriviamo a 40 like vi metterò questa squadra sotto forma di contest La squadra costa 30k Troviamo Jovinco in forma, Runei, Balotelli in attacco Centrocampo abbastanza difensivo Difesa che pecca un po' perché comunque abbastanza diciamo non proprio forte 3 giocatori argento su 5 Diciamo che è una squadra che a me è piaciuta L'andremo a provare per una partita e noi ci becchiamo nel match Bella Vediamo 81 di valutazione, 97 di in te Oddio Squadra strana della Liga Russa Tad, Chief, Witzelif, Napko Team of the Season E Eremenko Hero Quindi Mi preoccupa quella ATT perché mi verrebbe da dire che è una merda Però Quando dico che è una merda mi segna sempre Quindi Per Balotelli 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 Viene placcato Ancora Bradley per Balotelli Balotelli Tiro Collasso di Balotelli 1-0 Mamma mia E' subito al terzo minuto Super Mario Balotelli Super Mario Balotelli Mamma mia che squadra Raga Lasciate un like Così ve la porto sotto forma di contest Dagli No raga no Tosic Vaffanculo 1-1 all'ottavo minuto Se procediamo Questo passo Finisce 10-15 Ovviamente per me Bello Ancora Runei 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 E' passato Runei E' passato Runei Tiro Golasso di Runei Way Runei 2-1 Mamma mia raga Se è forte questo C.O.C Troppo forte raga 87 di tiro Mamma mia Cosa è Cosa non è Anzi Allora c'è Oddio raga Bradley Oddio Runei 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 Va di pancia Runei No Raga no Calcio d'angolo Steven Gerrard La mette Ime 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 Si Cacca 3-1 Mamma mia che collasso 3-1 Lo stiamo dominando Mi sa che questo guitta Non vorrei Dai che quitta Dai Non quittare Ha sbagliato Ha sbagliato Ha sbagliato Ha sbagliato Intrescivolata Ha sbagliato Ha sbagliato Nabbo Tosic Tosic La metterai in mezzo Regolo della merda Lo sbagli Raga Vaffanculo Sei scarso Sei scarso Sei scarso Ma No ma No ma I passaggi Cazzo Palotelli 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 Scherzo Il partito Raga Ultra lag Super Mario Palotelli 4-1 Al 45esimo Dai Ora voglio che quitti Anche perchè sta iniziando a laggare Perchè ti ho una connessione Dei barboni in Africa Se lasciate ora like Questo quitta Questo quitta Raga Lasciate il like Raga Non state lasciando like Perchè questo non quitta Dei Devi quittare Tu devi solo Quittare Are 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 Di ciuccia Di ciuba Come cazzo Mi pronuncia Non lo so Tiro Oddio raga Che parate La fa Si è rotto un femore Però l'ha parata No raga Giugia Si scarta il portiere Tiro il gol 4-2 Al 60esimo Sto zizzunza Di merda La proverà Gerrard Una specialista Proviamola a mettere Così Gerrard Raga Atraverso Non ci credo Che la tira di qua Oddio raga L'ho parata Sono troppo forte Sono troppo forte Sono troppo forte Vaffanculo Hulk di merda Finisce qui raga 4-2 Mamma mia Che partita Abbiamo parato Un calcio di rigore Abbiamo preso 8223 3,14 pali Quindi questo video Finisce qui Vi ricordo Lasciate un like Importantissimo Perché se arriviamo A 40 like Parte il contest Di questa squadra Regà Passate anche Appunto Alla pagina facebook Di cui ovviamente Troverete il link In descrizione Vi ricordo Per l'ennesima volta Like Commento Soprattutto Iscrivetevi al canale Noi ci becchiamo Ad un prossimo video Bella ragazzi Soprattutto